Un uomo normale e tranquillo, un cittadino modello, uccide tutta la sua famiglia, la moglie, i figli, persino i propri genitori. Tutti sono sconvolti, increduli. Com'è possibile che una simile tragedia sia potuta accadere? L'assassino è un importante ricercatore che lavora all'Organizzazione Mondiale della Sanità, con contatti di alto livello nel mondo accademico e politico. Una carriera di successo, un conto in banca invidiabile e una dolcissima famiglia. Soltanto che in tutto questo non c'è nulla di vero. L'uomo ha vissuto nella menzogna per 18 anni. In realtà non era un medico, non aveva nessun lavoro, non era neanche laureato. Non conosceva nessuno di importante e niente di quello che raccontava agli altri. Era vero. Nessuno, dagli amici più intimi fino alla moglie, aveva il benché minimo sospetto. Tutti si fidavano di lui. Questa incredibile storia di cronaca, basata su fatti reali, ci racconta la storia di Jean-Claude Romand, all'interno del libro L'Avversario di Emmanuel Carrer. L'ultimo libro che ho letto che mi ha colpito per alcune ragioni che vorrei condividere con voi. Perciò benvenuti al podcast di Italiano Avanzato. Io sono Pietro, insegnante di lingua italiana, e oggi parliamo proprio di un libro che ci aiuterà a ragionare un po' anche su di noi e sulla nostra società. A proposito, a settembre inizierà il nostro club del libro, quindi se volete leggere con noi e commentare sia i contenuti dei libri, sia il lessico e la grammatica, scriveteci. Trovate maggiori informazioni sul sito. Ora, quello che ho detto poco fa viene raccontato nella prima pagina del romanzo. Non pensate che le informazioni che vi ho appena dato siano spoiler. Questa orribile strage è la premessa, anzi, di un romanzo che ha come scopo non la suspense e il colpo di scena, ma un continuo interrogarsi sulla psicologia umana. Ancora prima di chiederci perché Romand abbia assassinato la propria famiglia, dobbiamo domandarci cosa porta un uomo a mentire? Cosa porta Jean-Claude Romand a costruire una gigantesca rete di bugie per quasi vent'anni? Bugie che, tra l'altro, non nascondono nulla se non il vuoto. Romand non è una spia o un agente segreto. Le bugie non servono come copertura. Non c'è niente da nascondere agli altri. E allora verrebbe da chiedersi perché mentire? Questo libro è un'occasione per esplorare l'oscurità che si manifesta in modi subdoli e a volte meno evidenti nella vita di ciascuno di noi. Perché tutti, più o meno consapevolmente, mentiamo. E ci sono più gradi di bugie. La società in sé che cos'è se non una costruzione, una finzione, in cui a volte vivere non è molto diverso che indossare una maschera e recitare una parte. Ecco, Romand faceva proprio questo. Recitava una parte. La sua è una storia estrema, quasi incredibile, ma le dinamiche che la muovono non sono poi così strane o aliene. La pressione sociale, per esempio. Tutti i giorni ci capita di dire qualcosa di non vero per dimostrare di essere migliori di quello che siamo o per altri motivi, per non fare preoccupare gli altri della nostra condizione. Pensateci, cosa rispondete in automatico ogni volta che vi chiedono come stai? Ma questa è una piccola, innocua bugia, giusto? Che cosa potrebbe accadere di male? Ovviamente non succede niente, non preoccupatevi, ma intanto abbiamo reso questa piccola bugia parte integrante del nostro dialogo con gli altri. E perché diciamo che stiamo bene? Forse per evitare discorsi troppo personali, forse perché non vogliamo rivelare informazioni delicate, o forse perché non vogliamo che gli altri possano pensare che siamo inadeguati o deboli. E allora, forse, è proprio il giudizio degli altri e la pressione sociale che spinge Romand, ai tempi del liceo, a dire la prima bugia, quella da cui partiranno tutte le altre. Cioè a dire di aver passato l'esame di medicina mentre in realtà non ci ha nemmeno provato. Ma lui è uno studente brillante, tutti si aspettano che lui passi quell'esame. E allora deluderli diventa un problema e va evitato a tutti i costi. Soprattutto quando la questione non è tanto che gli altri ci giudichino male, ma che la tua immagine perfetta, a cui tu sei tanto affezionato, crolli. Perché a Romand piace essere quello bravo, interpretare il ruolo dell'universitario brillante prima e del medico di successo poi. È bello, è appagante. Ora, come si è riuscito Jean-Claude Romand a vivere quasi vent'anni mentendo? Come si è riuscito a sposarsi, ad avere figli e dove abbia preso i soldi? Questo viene esposto molto bene nella ricostruzione degli eventi fatta dallo scrittore Carrère. Non è facile un lavoro del genere. Dove verità e falsità si mischiano e mettere ordine agli eventi, alla ricerca di un perché, diventa la missione prioritaria. Specialmente quando un perché sembra non esserci. Soltanto quando la bugia sta per essere scoperta, quindi quando la bolla sta per esplodere e Romand si trova davanti alla possibilità che coloro che lo conoscono capiscano la verità, allora la scelta più facile, l'ennesima debolezza di questo personaggio, è uccidere tutti. Perché uccidere tutti, per lui, è più facile che ammettere le bugie di vent'anni. O comunque è più facile che ammettere che quelle bugie non avessero alcuna motivazione concreta. Al contrario di quello che succede invece in Delitto e Castigo di Dostoevsky, dove l'assassino viene schiacciato dal peso della colpa. Ma per ammettere una colpa è necessario spirito e forza di volontà. E paradossalmente, nonostante sembri che per mantenere questo mondo falso di bugie in piedi sia necessaria molta forza di volontà, è proprio il contrario. La bugia è sempre la scelta più facile. Perché con la bugia non devi affrontare la realtà. Ed è per questo che anche uccidere diventa la scelta più facile per il protagonista. Perché uccidere i propri familiari è ancora l'ultimo estremo modo di non affrontare la realtà. La lettura del libro a questo proposito risulta molto scorrevole, coinvolgente. I capitoli sono brevi e veloci e ti immergono totalmente all'interno di questo mondo che è in realtà il nostro. Perché vi ricordo che si tratta di una storia vera. I personaggi e gli avvenimenti sono raccontati quasi fossero un reportage giornalistico. Dove però il narratore non rimane imparziale e ce lo dice lui stesso vuole dare un giudizio. Perché è lui il narratore il primo a desiderare di capire come e perché sia potuta accadere questa tragedia. E questo mi ha colpito molto perché viviamo in un tempo dove i media di intrattenimento specialmente i film ma non solo hanno deciso che il male vada rappresentato sempre dando allo spettatore l'opportunità di capire perché qualcuno faccia il male. In un modo diverso. I media oggi spesso ci spingono a empatizzare magari con la figura del cattivo che è cattivo solo perché magari ha subito dei traumi o è stato trattato male da piccolo. Sì, Disney sto parlando con te. ecco in questo libro invece il male è così incomprensibile e primordiale che forse il nostro disorientamento deriva proprio da questo dall'impossibilità di dare una spiegazione razionale anche se ci proviamo e io stesso ci ho provato. Forse esiste il male puro subdolo egoista ed è per questo che ho apprezzato davvero tanto questo libro dove tutto ruota attorno a lui l'assassino schiacciato dalle proprie bugie vittima delle proprie menzogne e carnefice dei propri cari si indaga sulla vanità dell'uomo l'ambiguità dell'uomo e la debolezza dell'uomo uomo che è il primo e più pericoloso avversario di se stesso questo titolo infatti l'avversario riprende il nome biblico di un altro spaventoso nemico dell'umanità satana e dov'è satana in questo romanzo dov'è satana nella vita al di là del significato religioso ovviamente beh è nelle nostre scelte anche le più banali è in una società che perde di vista la propria umanità giorno dopo giorno ma continua a dire a se stessa che tutto va bene e tutto va bene finché qualcun altro impazzisce e decide un bel giorno di distruggere tutti quelli che ha attorno lettura consigliata non fatevi ingannare da questo episodio del podcast che sembra molto complesso e filosofico in realtà la lettura del libro è molto più scorrevole godibile lo si può leggere tranquillamente e velocemente senza tutti questi pensieri di contorno io sono Pietro avete ascoltato il podcast di Italiano Avanzato come al solito se vi piace il podcast avete due modi di sostenerlo consigliatelo oppure iscrivetevi al nostro club su Patreon se siete interessati ai corsi di italiano scriveteci una mail e organizziamo un incontro ci vediamo presto ciao ciao